Tu pensi all'economia. Oggi si dà i premi Nobel a questi economisti bravi, eccellenti, che con i loro modelli matematici riescono a prevedere la borsa di Hong Kong fra vent'anni. Ma chi se ne frega? L'economia dovrebbe essere fondata sull'esigenza dell'uomo. L'economia dovrebbe essere fatta non per i criteri economici, ma per l'uomo, la crescita. Ma siamo sicuri che il progresso deve essere solo crescita? O non sarebbe molto meglio arrivare ad una situazione in cui abbiamo poco, ma ingiusto? Poco, ma ingiusto. Voglio dire, se ci rimettiamo a pensare ciò di cui veramente abbiamo bisogno, non è quello che l'economia di oggi ci dà. Se tu pensi, oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre delle cose per lo più inutili che altri lavorano a ritmi spaventosi per poter comprare. Perché questo è ciò che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà felicità alla gente. Io trovo che c'è una bella parola in italiano, che è molto più calzante della parola felice, ed è contento. Accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice. Perché questo sistema fondato sulla crescita dei desideri, c'è sempre un desiderio che per te è irraggiungibile, rende tutti infelici. Grazie, grazie, grazie.